Debutta in televisione nell'estate del 1993 e come valletta del programma del Mezzogiorno di Canale 5, Sì o No, condotto da Claudio Lippi, visto il successo, la trasmissione viene proposta anche nella stagione 1993-1994 nella fascia preserale del sabato e, nuovamente in versione quotidiana nell'estate del 1994. Dopo questa esperienza, nell'autunno del 1994 passa in Rai in qualità di valletta del varietà del sabato sera scommettiamo che, nella stagione 1995-1996 lavora a Odeon TV, per il quale conduce il TG Rosa, esperienza che ripete anche l'anno successivo. Mentre nella primavera del 1996 prende parte allo spettacolo di Canale 5 e il Boom, condotto da Teo Teocoli, l'anno successivo approda TMC, dove partecipa al programma comico Retromarche. Per poi tornare nell'autunno del 1997 in Rai. Da quell'anno sarà tra le conduttrici dello storico programma di Rai 2 e i Fatti Vostri, nel quale rimarrà per parecchie stagioni. Fino al 2003, nello stesso periodo partecipa ad altre trasmissioni Rai, come la Maratona Benefica Teleton, dal 1997 al 2000, e il Lotto alle 8. Dal 1998 al 2001, mentre nel 2002 e nel 2003 cura i collegamenti dai monopoli di Stato per le estrazioni finali del 6 gennaio della Lotteria Italia per le trasmissioni Torno Sabato e Uno di Noi e, durante l'estate, conduce il Giro Festival su Rai 3. Dal 2001 al 2005, chiuso il programma Il Lotto alle 8. Continua per tre sere a settimana a curare i collegamenti con le estrazioni del Lotto. In onda nell'Access Prime Time di Rai 2. Nel 2003 presenta inoltre la prima edizione del programma che sostituisce i Fatti Vostri nella sua fascia oraria, Piazza Grande, e l'anno successivo conduce in prima serata su Rai 2 lo speciale Stelle con la Coda. Nell'estate del 2008 è la conduttrice del Festival Show, spettacolo itinerante nel quale si esibiscono giovani talenti della musica. In onda su Canale Italia. Nel febbraio del 2010 riprende per alcuni mesi la conduzione dell'Otto alle 8 su Rai 2. Dall'autunno del 2011 partecipa ogni sabato come opinionista alle rubriche di musica e spettacolo. Del programma Uno Mattina in Famiglia su Rai 1. Ruolo per il quale viene riconfermata di anno in anno fino alla stagione televisiva 2015-2016. Nel settembre 2015 entra anche nel cast della trasmissione I Fatti Vostri. In onda su Rai 2. Come giurata di Dog Factor. Talent Show del venerdì dedicata al mondo dei cani. Tra 2015 e 2016 conduce tre puntate speciali di Cantando Ballando. Programma musicale in prima serata su Canale Italia. Grazie. Grazie. Grazie.